Le pegole ne avevano una sola e dopo 4-5 cavre e le pegole ne avevano una, ma naturalmente dopo ne avevano i calzetti, i maioni, i guanti, avevano freddo e non avevano lana. Allora partevano e quando saivano che passavano i pastori e le pegole le passavano sotto i reticolati, le lasciavano tutta la lana attaccata abbastanza e non andavano a spiegare la lana. Spiegavano la lana, la portavano a casa e dopo la scarteggiavano e la filavano e ne facevano i calzetti. Mi mamma non ne faceva i calzetti. Filava e si andava in filo nelle stalle. Lì c'erano le stalle con le mucche, era il posto caldo e si andava ognuno con la sua mollinella, l'altra faceva la calza, ci si facevano le calze, calzini, abbiamo fatto dei pullover anche. Dopo non c'era abbastanza lana, allora mia mamma ha preso un pezzo di stoffa e ha fatto un gilet come questo. Poi le maniche con la lana di pegole e spinavano. Non c'erano da portarle, bruttissime da portarle, ma comunque tenevano caldo. Le capre naturalmente le guarde ai boschi venivano sull'uoco e ce le hanno viste nel bosco e ci hanno fatto la multa perché mangiava la legna, la testa della legna e non poteva più crescere. E allora dopo che si tira fuori la spola uda, se la mette dentro qua, se la infila lì, la mette sulla porta, e questa che la infila se la mette qua. Prendete il ganchetto, adesso fisse la lìa, che non potete credere che sia facile. Le lìa bene. Guardate. E' brutta. E' vero sentire la via che è brutta, che è difficile. Eh sì, hanno la mia faccia per quella. A guardare così, pare che sia una roba facile, ma non la dè mica. Proprio non c'è una santa. Senti il piantre e chi butta solo a casa. Non so stare qui la vuol dire a casa. E là la dita la resina, per la casa è fastidio. Ecco qua si tacca. Si tacca dentro lì. E lo può tirarla fuori. E' affetto. Bisogna. Ecco. Se la è grossa. Allora lo tira fuori. E' adesso. Questa è diventata, perché non si sa. Bisogna. Ricarla lì. E' anche un'altra. A sinistra. Una. A parte rovesse. Non quella gira. Si. A sinistra. Anche. Un'altra. Un'altra. Grazie.